Alzi la mano chi l'ha riconosciuto, è già Oppo Pad 2, è stato presentato, tra l'altro si ho anche la coverina magnetica che è anche una tastiera smart Dicevo lui è stato presentato ormai praticamente più di un mese fa e noi l'abbiamo provato proprio per circa un mesetto Per arrivare alla conclusione che lui effettivamente ha molto più senso del suo fratello OnePlus che abbiamo già analizzato Questo perché arriva sul mercato con una dotazione di storage 256GB, una cosa che abbiamo criticato sul OnePlus perché 128 erano effettivamente troppo pochi per un prodotto di questo tipo Che può essere effettivamente sfruttato per editing video, gaming e insomma un utilizzo che va a occupare molta memoria E più che altro lui arriva con lo stylus, la Oppo Pencil praticamente inclusa, anche con la tastiera praticamente tutto a costo zero Per un bundle che alla fine a 600€ ti permette di avere tablet, cover, che è anche tastiera e penna Molto molto più completo del OnePlus che invece andiamo a pagare circa 750€ tutto incluso, con meno storage Quindi molto interessante, andiamo a parlarne brevemente facendo magari un'analisi più approfondita degli accessori a questo giro Partiamo subito Eh già perché la tastiera è quella che abbiamo già analizzato fantastica per quanto riguarda le gesture, lo scorrimento Guardate che carine no? Tutte le varie animazioni anche quando passiamo con il trackpad sulle varie applicazioni Posso fare delle gesture per chiudere la cartella, faccio con due dita per aprire il drawer, scorrere Insomma è tutto gestito molto bene e tra l'altro anche quando poi andiamo a scrivere la tastiera non è assolutamente male come feedback tattile È una tastiera molto semplice che io l'unica cosa che posso criticare è che a un costo di 150€ mi aspettava un minimo 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 di retroilluminazione Anche perché quando effettivamente si fa buio il display non illumina molto la tastiera e quindi andiamo a scrivere un po' a caso Anche la corsa non è così male insomma è una tastiera che ti dà un feedback effettivo quando vai a scrivere Per il resto quando non andiamo ad utilizzare la tastiera possiamo sfruttarla come stand Vedete questo è l'angolo che si ha perfetto proprio per andare a vedere direttamente il display Ed eliminare la maggior parte dei riflessi perché sì già lo vedrete c'è qualche riflesso di troppo su questo display Che va a minare poi l'effettiva qualità di visualizzazione Ma ne parliamo dopo infatti comunque si può usare anche come coverina Protegge molto bene non aggiunge troppo peso ai 550g del dispositivo E più che altro beh anche la funzione ovviamente che quando andiamo ad aprire il display si accende da solo Per quanto riguarda la penna ovviamente il collegamento principale avviene tramite bluetooth Poi andiamo semplicemente a collegare magneticamente dove avviene poi la ricarica Qui dove notate questa banda leggermente più scura Il collegamento è immediato è molto saldo c'è un leggero gioco ovviamente nella parte dove non c'è il magnete E nelle impostazioni possiamo andare a scegliere per esempio cosa fare con il doppio tocco Quindi quando andiamo a fare un doppio tocco magari passiamo alla gomma E io qui su sketchbook stavo completando un disegno che avevo iniziato su ipad E mi ci sto trovando abbastanza bene Seppur l'unica cosa è che praticamente il feed della punta è molto diretto non è morbido Quindi quando abbiamo lunghe sessioni di utilizzo diventa non troppo completamente piacevole l'utilizzo Su medie lunghe sessioni perché per l'appunto questa punta è decisamente rigida Non magari come l'S Pen o comunque l'Apple Pencil Ecco questa è l'unica critica che posso fare a questa penna Per il resto la batteria è infinita e si disegna abbastanza abbastanza bene Per il resto questo Oppo Pad 2 lo conosciamo abbastanza bene Scocca unibani in alluminio 550 grammi di peso Bellissima con questi cerchi che si vanno per chiudere all'interno della fotocamera principale Che non è una brutta fotocamera riprende in 4K 30fps e ne parliamo dopo Comunque questa scocca bellissima che praticamente non ha stacco dal frame E più che altro abbiamo una diagonale di display che è praticamente 12 pollici 90% di superficie frontale occupata dal display E la cosa fantastica è praticamente questo bordo leggermente curvo unico sui tablet Il design è tanta roba E lui risulta essere un tablet appagante da toccare, da utilizzare Lo sblocco di questo tablet avviene soltanto tramite volto con la selfie camera posta qui Appena io vado infatti a osservare il tablet lui mi sblocca Non è affidabile al 100%, ogni tanto c'è qualche incertezza come in questo caso Magari inclino un po' di più il prodotto, magari mi avvicino un po' di più e funziona Quindi ecco, secondo me un sensore di impronte integrato magari all'interno del tasso d'accensione Sarebbe stato il top del top Anche perché per il resto una volta sbloccato ci troviamo davanti questo display che non è assolutamente niente male Ok, è vero è un IPS, refresh rate 144Hz Una risoluzione particolare perché abbiamo questo formato ovviamente 7 quinti È molto più squadrato di un classico tablet Formato ottimo se magari andiamo a dividere in due il display Perché abbiamo effettivamente molto più spazio per andare ad effettuare operazioni di questo tipo Mentre quando magari andiamo a vedere qualche contenuto multimediale Che può essere per esempio su Netflix, mettiamo qualcosa a caso In questo caso si hanno dei bordini ovviamente più evidenti perché il formato è più squadrato Ci sta, però basta fare uno zoomino, problema risolto Seppure il tablet supporti l'HDR10, l'HIVC e il Dolby Vision In applicazioni come Netflix, Prime Video non c'è ancora questo supporto YouTube invece c'è il supporto all'HDR Disney Plus fa un po' di scorsa a sé E se entriamo nelle impostazioni dello schermo Vi faccio notare qualcosa extra come per esempio abbiamo la modalità Pro Reale Per dei colori più accurati ma anche varie funzioni extra come il miglioramento della nerezza delle immagini O dei colori nei video quindi praticamente vado ad ampliare un po' la gamma di colori Per il refresh rate abbiamo la scelta o 144Hz o 60Hz Seppur come sappiamo spesso sui dispositivi Oppo One Plus Poi magari andiamo su YouTube e il tutto si blocca a 60Hz Quindi dovremmo andare a modificare manualmente con applicazioni terze Insomma non il massimo Il software a bordo ovviamente è la Color OS 13.1 in questo caso Versione leggermente riadattata all'uso tablet Quindi se andiamo infatti in caratteristiche speciali notiamo ovviamente delle funzioni extra Come per esempio questa ripresa centrale che cosa fa? In applicazioni come quelle che sono le applicazioni come Zoom, Meet eccetera Ma anche Discord quindi App Social La fotocamera ultra wide frontale si adatta al nostro volto Segue i movimenti del nostro corpo Abbiamo comunque anche la possibilità di scegliere alcune applicazioni come Instagram Che hanno un formato particolare Se vederla a tutto schermo o magari soltanto una parte In modo da non avere distorsioni Ovviamente abbiamo le doppie finestre Abbiamo la cartella laterale Questa barra laterale Dove per esempio magari Vado ad aprire un'applicazione Ecco lì che abbiamo la nostra finestrina Molto comoda Si può spostare Possiamo ingrandirla a tutto schermo Tutto funziona molto bene E questa funzione è anche ottimizzata nei giochi Vedete in questo caso avevo ridimensionato un Kystar Rail E il gioco continuava ad andare Eccezionale Considerando che questo è il secondo tablet di Oppo Assolutamente non male avere un software già così ottimizzato E che praticamente si aggiorna ogni due mesi Mi aspetto però che venga aggiunto quel supporto che vi dicevo prima L'HDR eccetera eccetera Insomma sarebbe una cosa gradita anche al Dolby Vision Infatti collegandoci proprio al Dolby Qui abbiamo anche quattro speaker Due su ogni lato verticale Due di qui e due di qua E praticamente questi speaker sono eccezionali Qualità altissima E il Dolby Atmos Dà una grandissima mano a questi quattro speaker Tra l'altro c'è anche una tecnologia che capisce come orientiamo il tablet Per ottimizzare l'uscita proprio di questo Dell'audio tramite questi quattro speaker Soltanto che c'è anche il Dolby Vision Che però in applicazioni terze Per l'appunto non è ancora supportato benissimo Cosa che però fa girare questo Oppo Pad 2? Beh il Dimensity 9000 È un SoC da Xtop di gamma Con della RAM LPDDR5X 8GB in questo caso E memory storage 3.1 Non c'è scritto ma ve lo dico io Quindi cos'è che ci aspettiamo? Beh un uso social che alla fine non è assolutamente niente male Il tablet è rapido Anche le animazioni Apertura e chiusura Apertura e chiusura È tutto molto rapido Anche lo swap tramite altre applicazioni Insomma apriamo per esempio un'app di news calcistiche Il tempo d'apertura è abbastanza rapido Anche come si scorre poi all'interno dell'applicazione Magari andiamo ad aprire anche una news Tutto funziona molto bene Si riesce a videogiocare a qualcosa come un Kistar Rail Quindi un titolo abbastanza impegnativo graficamente Come potete notare Abbastanza bene Ovviamente non abbiamo una grafica da top 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 tablet Come può essere un S9 Ultra Però comunque si difende abbastanza bene E più che altro non abbiamo una perdita di frame importante Su lunghe sessioni di utilizzo Quindi tutto rimane molto molto stabile Il tablet scalda leggermente Soltanto in questa parte Che però non toccate praticamente mai Andando a fare un grip centrale o basso Quindi assolutamente zero problemi anche su lunghe sessioni di utilizzo E la batteria ringrazia dato che comunque riusciamo a fare un uso di questo tipo Arrivando al 5% dove abbiamo praticamente più di 8 ore di display Tra 6 ore di Netflix 1 ora e 20 di gaming Utilizzo vario Insomma assolutamente non male Qui ho provato a fare solo uso gaming Un risultato più che ok per i 9500 mAh di batteria che sono qui dentro Che supportano tra l'altro anche una carica rapida a 67W E parlando di fotocamere Beh la selfie camera è quella che soffre un po' di più Seppur ci sia questa modalità selfie Che praticamente va a creare uno sfocato Ma anche nei video in realtà possiamo andare ad avere uno sfocato Quindi un software comunque completo e anche ben fatto Ma sicuramente il top è la fotocamera posteriore Che eleva la qualità video fino al 4K Abbiamo anche l'autofocus In quel caso la qualità è decisamente migliore Insomma un tablet completo che più che altro Allora 599€ di base non sono pochissimi per un tablet Android In questo caso la scheda tecnica c'è Effettivamente è un tablet completo Ma secondo me ha senso se preso con tutti gli accessori Come la penna per l'appunto Che di base 100€ per questa Pencil Secondo me sono troppi come sono troppi 150€ per una tastiera Ok smart cover eccetera Che però non è retroilluminata Ma se presi a praticamente costo zero Quindi 600€ il pacchetto completo Con 256GB di storage Tutto ha più senso E quindi vi dico se cercate un prodotto di questo tipo Sfruttate la promo Perché fin quando c'è è interessante Se invece dovessi pagare questo tablet praticamente 850€ Con il pacchetto completo di accessori Beh magari ci penserei due volte Perché diventa decisamente più impegnativo E meno competitivo Che è una cosa essenziale Essendo già il mercato dei tablet Molto 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 complicato Con poche alternative Ma tutte valide Più che altro c'è un sacco di competizioni Sulla fascia alta Dove spesso si va a preferire poi gli iPad Cosa ne pensate di tutto ciò? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti E occhio perché a breve arriveremo anche con un altro tablet Super super interessante Ve lo lascio indovinare qui sotto nei commenti Ciao 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 Grazie a tutti